Ho deciso di fare il giro dell'Adriatico in bicicletta. Sono partito da Ancona, quest'anno ho deciso di arrivare a Spalato. A Ancona ho conosciuto Aldo Tortorelli, il primo giorno sono caduto subito dalla bicicletta, il terzo giorno sono arrivato a Chioggia dove ho preso la bora e un temporale. Buona visione! Buongiorno a tutti, ho passato una notte infernale, un vento incredibile, pioggia, la mia tenda sono riuscito a richiuderla con molta difficoltà ed è lurida, così come tutta la mia bicicletta, perché si è alzata molta sabbia. Comunque sono quasi pronto e questa mattina finalmente passerò sulle isole veneziane, tra cui incontrerò un mio carissimo amico, nonché un paesano, Simone. Sto procedendo a piedi che mi trovo in mezzo al mercato, sto raggiungendo l'imbarco, mi conduca a qualissima di penestrina. Sto procedendo a piedi che mi trovo in mezzo al mercato, sto raggiungendo l'imbarco, sto raggiungendo l'imbarco. La belle serina, un litro di Venezia. Alla mia sinistra, in Venezia, si vede molto bene a piazza San Marco. In alcuni punti non sembra di essere sulle isole veneziane, sembra di essere in qualsiasi posto, ma non un'isola. Ho fatto un po' tardi all'appuntamento con Simone, ma purtroppo a Chioggia ho aspettato 40 minuti il traghetto. Ma mi perdonerà, è bravo. Sì, sì, sì. Ti ho detto... Simone! Fino al lido, tavolo. Fino al lido. Sti aspettando da tanto allora? No, hai fatto un giretto, ho detto, io pensavo che tu fossi ancora per strada. E poi ho detto, ma è lui o no? Ho detto, vabbè, sì, lui. Guarda, tutto controvento. Tremendo, tremendo. Com'era per il posto? Siente verità. Simone, dove mi porti oggi? Direzione Lio Piccolo. Lio Piccolo, benissimo. Vi ha detto che è qualcosa di fantastico. Qualcosa di eccezionale. Sì, sì. Andiamo a vedere, dai. Questo si vede abbastanza tranquillo, e qui non c'è casino. Non mi sento le isole, devi muovere col ferri, da volte se lo trovi tutto pieno. Un macello. Sì, immagino. La bici è più semplice, anche se ne si parte. Penso in effetti di essere partito nel periodo migliore. Sì, sì. In attesa del battello, un quarto d'ora d'attesa. Guardate Venezia sullo sfondo, spettacolo. Per Burano, Burano, per Burano. Si è fatto un po' tardi, quindi cominciamo con un piccolo pranzetto e poi si va a pedalare. Io ho preso questa cotoletta alla milanese con un po' di patate. E io, prosciutto e bufala. Andiamo. Il mio piccolo. Che posti ragazzi? È bello qua. Qua è Burano. Che posti ragazzi? Che posti ragazzi? Grazie a tutti. 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 Ho raggiunto un camping, sono stati molto gentili ed è stato anche il meno caro che ho pagato fino a questo momento. 12 euro e 50. Ragazzi io devo riparlare bene di questa tenda. MSR non mi paga, questa notte praticamente sono stato sotto la famosa bora, un vento almeno di 50 km orari, temporale, si è sporcata un po' sotto, adesso che l'ho rimontata era bagnatissima, ma all'interno mi sono sentito sicuro. Buongiorno. Oggi sono uscito tardissimo, ha piovuto anche questa notte. tenda, tenda zuppa, fradicia. Spero di riuscire a fare almeno un'ottantina di chilometri, sempre se non ricomincia a piovere perché vedo delle nuvole abbastanza minacciose, almeno 80 km in modo da avvicinarmi a Trieste. Con la certezza che domani sarò sicuramente lì. Faccio un po' di spesa. Ecco qui, un po' di prosciutto, un po' di pane arabo, banana, mera e colazione. Ci vuole anche un caffettino. Oh, il ponte di parche. Buongiorno. Paga vento, ma le biciclette non pagano. Ieri sarebbe stato ottimo qualche raggio di sole lì a Lio Piccolo. Ho il vento che mi spinge un po' di lato, ma anche un po' in avanti, anche un po' in avanti. Va bene, va bene. Una pioggerellina leggera leggera. Il nome Eraclea mi dice qualcosa. Il nome Eraclea. sono quasi a quota 300 metri calcolando che sono partito dal mare la viaggiola l'abbiamo messa qui la mia camera è su ragazzi dopo cinque giorni ho preso una camera perché sono esatto ho bisogno un po di privacy con un bel bagno ho quasi paura di buttarmi su questo letto una zuppa nella casa una braciola di maiale sono proprio cotto oggi è il quinto giorno di viaggio ed ho deciso di prendere una camera perché alla fine se uno si vuole riposare davvero ha bisogno di un vero letto il primo giorno ho quasi rischiato di rinunciare subito a questo mio progetto dato che sono caduto dalla bicicletta l'altro ieri notte ho passato una notte d'inferno sotto un temporale un vento fortissimo e domani finalmente arriverò a trieste addirittura penso di arrivare in slovenia perché sì secondo i miei calcoli c'era vero sicuramente e quindi saluterò l'italia entrando finalmente nel vivo di questo mio viaggio buonanotte grazie a tutti